E allora direi di iniziare subito con i nostri ospiti e iniziamo da Marco Tronchetti Provera, amministratore delegato di Pirelli. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei. Buongiorno a tutti. E allora andiamo subito al dunque. Allora, siamo in piena formazione del nuovo governo. Lei circa un anno e mezzo fa, se era da poco insediato il governo Draghi, si disse molto confortato dal fatto che quell'esecutivo fosse formato da tecnici. L'esecutivo che sarà, stando al Toto Ministri che leggiamo tutti i giorni sui giornali, anche oggi in prima pagina il messaggero parla di tecnici o politici, sarà composto forse solo parzialmente da tecnici e ci sembra tanta politica. Si parla di un tecnico al MEF e agli interni, ma non sono certezze. Allora, in questo scenario, lei cosa si auspica e cosa teme dalla squadra di governo che verrà indipendentemente dai nomi? La stessa Meloni ieri ha definito un momento difficilissimo questo che stiamo affrontando. Quello che è vero è che il momento più difficile che l'Italia e l'Europa abbiano attraversato dal dopoguerra. Peggio la pandemia, c'è un cambiamento strutturale. Quindi il governo avrà bisogno di competenze, ma questo mi sembra che la stessa Meloni abbia sottolineato. Quindi l'importante è che nei ministeri chiave ci siano persone competenti e la capacità di relazione con l'Europa è l'altro elemento fondamentale che deve caratterizzare questo governo, perché da questa situazione si esce in Europa e con l'Europa. Quindi la composizione sarà politica, è normale che sia politica, perché questo è un governo che nasce legittimato dalle urne. Poi all'interno la Meloni stessa valuterà quali sono le competenze strategiche. È chiaro che ministeri come economia interno, difesa esteri, hanno bisogno di persone che abbiano la fiducia, non solo italiane. Questo è il tema di fondo. Ecco, Pronchetti, lei ha giustamente, come dire, sottolineato che la composizione sarà politica, perché è giusto che sia così, con una componente tecnica. D'altro canto proprio oggi tutti i giornali titolano su questa apertura verso i tecnici. Allora io le faccio una domanda. Che cosa dei provvedimenti che ha varato il governo Draghi, che cosa manca tra quei provvedimenti che potrebbe essere varato immediatamente a favore delle imprese? Perché non dimentichiamo che è giusto essere vicino alle famiglie, ma se le imprese non girano, non funzionano, le famiglie soffriranno ancora di più. Ecco, che cosa lei, se potessi chiedere, in questo momento un governo già fatto, cosa chiede? Cosa devono fare subito per le imprese? È chiaro che la priorità assoluta è l'energia. Il costo dell'energia sta facendo chiudere aziende, quindi distrugge posti di lavoro, ovviamente, poi incide sui consumatori, quindi diventa un cerchio vizioso per cui le imprese producono, ma il mercato poi non è in grado di comprarle perché la gente non ha i quattrini. Quindi tutto ruota intorno all'energia, è il tema fondamentale. Seguono poi evidentemente le priorità legate a alcuna fiscale, la competitività di sistema che vede l'Italia in ritardo e l'attenzione alla competitività delle imprese purtroppo non è stata la priorità negli ultimi decenni, non negli ultimi anni. Quindi la primissima partita si gioca in Europa. Non ci sono dubbi perché con l'energia possiamo tamponare delle situazioni come sta venendo ora, ma alla fine è l'Europa il cuore di tutto e venerdì ci sarà un importante incontro che determinerà poi il percorso in Europa della definizione di una politica comune per arginare il prezzo del petrolio e gas e il costo dell'energia. Ecco, c'è però un tema che dobbiamo avere il coraggio di affrontare, che in questi mesi tante volte si è parlato di tetto al prezzo del gas, di come morigerare, di come sostenere le aziende da un punto di vista europeo, però sono state fino ad oggi soltanto parole perché ci sono due paesi, Olanda e Germania, che frenano la direzione che sarebbe giusto che l'Europa prendesse. Quindi fino a quando non avremo una soluzione chiara che possa davvero dare una botta a questo prezzo e magari consentire all'inflazione di scendere, le aziende dovranno fare da sé. Ora, Pirelli, l'azienda che le guida da 30 anni, è un'azienda che consuma molta energia, possiamo dire che è energivora. Come vi siete attrezzati nella previsione di questa lentezza manifesta da parte dell'Europa nella decisione su questo fronte? Che cosa avete fatto per poter comunque contrapporvi alle temperi di questi prezzi? Noi, come prima cosa, abbiamo garantito la continuità di attività nelle fabbriche, quindi abbiamo creato immediatamente un'alternativa attraverso diesel, gasolio, quindi abbiamo cisterne che sono pronte a affrontare l'emergenza, come primissima cosa. Poi è chiaro che l'Europa ha un tema dove forse non si è ancora colto a livello commissione di diversi paesi, che il tema dell'Italia, del prezzo dell'energia, raffrontato quello dell'Olanda e della Germania, che hanno bilanci più capienti e quindi possono mettere a disposizione risorse a protezione della loro economia, però le loro economie se l'Italia non funziona avranno dei problemi enormi. Quindi la necessità di operare insieme sul prezzo barra costo dell'energia è fondamentale anche per loro. L'Italia esporta il 67% in Germania, l'Italia esporta circa 350 miliardi di euro, il 67% va in Germania. Allora la Germania, se l'Italia non è competitiva, ha un problema nella sua supply chain. Il mercato italiano è un mercato importante per tutte le aziende europee, l'economia all'interno dell'Europa coinvolge tutti, quindi se va male l'Italia non va bene la Germania. Se si parte da questo ragionamento, cosa che mi sembra un cammino che vede in prima linea il commissario Gentiloni, Thierry Breton, nell'articolo di ieri, nell'articolo di intervista di ieri, hanno dato dei segnali molto chiari. L'Europa esce da tutto questo insieme. Se anche l'Italia non trova un suo percorso, è un guaio per tutti. A proposito di Europa, l'Europa ha varato in questi mesi, dal 24 febbraio, dall'invasione russa in Ucraina, severe e importanti sanzioni contro la Russia, l'ultimo pacchetto è proprio di queste ore. Molti sostengono, pur condividendo la decisione, che però l'Europa abbia sottovalutato il cosiddetto effetto boomerang, non preparando poi gli anticorpi, insomma, come rispondere poi alle contromosse di Putin. Fino anche a poco fa, lei da sempre insiste molto su un punto, quest'unità strategica a livello europeo. Allora, voglio sapere cosa pensa dell'ultima mossa della Germania, i 200 miliardi messi stanziati dal governo tedesco, una mossa tra l'altro molto fatta anche per l'industria dell'auto, che rappresenta, insomma, una parte importante del PIL tedesco. Se l'Europa non agisce insieme, vuol dire che è guidata da persone miopi. L'Europa è una regione del mondo ricca, ha il più alto livello di consumi, ha maggiore protezione sociale, non ha materie prime. Quindi la forza dell'Europa è stata in questi decenni di crescere con un costo di materie prime abbastanza basso. Ora, se noi non troviamo percorsi alternativi o non proteggiamo l'Europa, se si crea una crisi geopolitica con dei fornitori strategici di materie prime, in cui l'energia ovviamente è magna pars, a quel punto l'Europa è destinata alla decadenza, a diminuzione di competitività e quindi a impoverirsi. Quello che non è andato bene e su cui bisogna riflettere è proprio l'atteggiamento dell'Europa nel rapporto con l'America, che è il partner strategico con cui noi dobbiamo continuare a avere un'alleanza, noi intendo tutto l'Occidente. Però dobbiamo anche garantire la sopravvivenza della gente che abita in Europa, perché se noi portiamo avanti i nostri valori in modo corretto, ma siamo nelle mani di chi poi dopo, avendo tensioni con noi, ci aumenta i prezzi, semplificando, portiamo evidentemente un contributo negativo anche al disegno strategico che si basa sui valori occidentali. Immaginiamo se succedesse qualche cosa in altre regioni del mondo da cui dipendiamo totalmente. Faccio un esempio semplice, la Cina che ha l'80% delle terre rare, Taiwan ha tutta la componente più sofisticata di semiconduttori che rifornisce tutto il mondo. Ecco, se noi entriamo con la stessa logica in tensioni geopolitiche con altre regioni del mondo, l'Europa va in fronte a un impoverimento, a tensioni sociali terribili e avrà evidentemente un prevalere del populismo in una situazione drammatica. Quindi questo è un tema strategico che l'Europa deve affrontare con uno spettro più largo. È chiaro che il consenso è molto difficile da raccogliere in Europa perché i meccanismi decisionali sono complessi. Quindi l'Europa deve cambiare meccanismi decisionali. Dal suo punto di vista, proprio da grande imprenditore, cosa pensa la citata pochissimo fa al volo della proposta avanzata dai commissari Gentiloni e Breton sul fondo Shure? Cioè dal punto di vista proprio delle imprese, questo strumento europeo per combattere la crisi energetica? Il sistema Shure ha permesso in sostanza di finanziare le casse integrazioni, ha dato dei contributi fondamentali. Quindi è uno strumento fondamentale, ma non è l'unico strumento. È uno strumento che come è successo con la Next Generation EU ha accompagnato altri strumenti. Quindi molto bene, primo passo importante, però abbiamo bisogno di una cosa diversa. Ma soprattutto bisogna che i governi europei siano trasparenti nel dire che se non ne usciamo tutti insieme finiscono male anche loro, perché non è che Germania e Olanda, se l'Italia si trova in drammi economici e sociali, andranno bene, andranno malissimo. Ecco, questo mi sembra che non sia colto e la politica guarda al breve termine e non prende decisioni strategiche giuste. Quindi questa è la complessità di base. Senta, lei continua ad essere pessimista sulla fine della guerra scatenata dalla Russia in Ucraina, che poi è la fonte di tutti i nostri problemi di questo periodo e anche per qualche anno ancora. Le continua ad essere pessimista, perché io ho letto alcune dichiarazioni sue che non mi hanno rincuorato. No, io non ho nessuna ragione, ma credo che nessuno di noi l'abbia per essere ottimista. C'è un tema di fondo, che le uniche voci che si sollevano in direzione della pace, nel mantenimento evidentemente di quei valori che ci hanno portato a tutelare l'Ucraina fino ad oggi. Ecco, gli unici che hanno parlato di pace sono stati il Papa, che ha parlato in modo molto concreto e realista, e il Presidente Mattarella, che ha sottolineato la necessità di iniziare questo percorso. La cosa grave è che da Bruxelles e dalle cancellerie non stanno arrivando segnali che, da un lato, devono preservare valori, posizione presa dai Paesi europei, dall'altro devono garantire che ci sia un percorso di uscita da questa tragedia. Bene, noi ringraziamo Marco Tronchetti-Provera, che come sempre sintetico, preciso, diretto, è un piacere parlare con lei, lei lo sa, ci conosciamo da tanti anni e spero che quanto prima la rivedremo o su questi schermi o sui nostri palchi, perché tra poco torneremo a fare i nostri eventi in presenza.